Buongiorno, io sono Marcella Schmidt di Friedberg, insegno geografia presso l'Università di Milano Bacocca e voglio presentarvi la nuova edizione della storia di un ruscello di Alisee Reclue, uscita poche settimane fa in questo difficile marzo del 2020. Ecco il volume. Chi era Alisee Reclue? È stato definito un anarchico ed erudito e sicuramente è stato uno dei principali geografi francesi dell'Ottocento, visse tra il 1830 e il 1905, viaggiò molto, visse spesso in esilio e tra le sue molte opere pubblicate emerge sicuramente la grande nuova geografia universale che è un'opera in 19 volumi, come si usava un tempo, quindi poi sono molte le altre cose che ha scritto. La storia di un ruscello, anche quello che nasce e si perde fra il muschio, è la storia dell'infinito. Vediamo queste parole che aprono il piccolo volume ripubblicato da Eleutera dopo 15 anni dalla prima edizione, la prima edizione era del 2005, ci fa, ci mette direttamente a contatto con il corso d'acqua. Perché di fatto però riproporre oggi un classico di fine Ottocento che ha sicuramente dei toni poetici ma anche talvolta retorici? Perché il reclus con il ruscello ci porta dritto dritto nella natura e un modo di fare geografia, e questo ovviamente per me è importante, come si diceva un tempo, fatta con i piedi, con gli occhi, con tutti i sensi. Vediamo che nei 20 capitoli del piccolo libro il corso d'acqua è presentato nei minimi dettagli, come un essere vivente quasi, seguito dalla nascita alla sorgente, poi alla cascata, al burrone dove precipita, senza dimenticare anche tutte le attività umane che sono legate all'acqua, le barche, i mulini, la pesca, ma anche gli aspetti piacevoli, il contatto proprio con l'acqua, la gioia delle passeggiate, i giochi dei bambini lungo il fiume, il bagno. In questa quasi direi galleria di piccoli quadri che ci propone il libro, vediamo che il ruscello è introdotto anche in aspetti estremamente vivaci. Uno forse dei punti che vi devo far vedere è quello dei militari che vanno a fare il bagno nel torrente, visto dagli occhi dei ragazzi che stanno giocando lungo le sponde. Quindi vediamo questa compagnia di militari che arriva per buttarsi nell'acqua. I soldati arrivano rigidamente al passo, sono schierati in colonne perfettamente rettangolari, gli ufficiali al fianco, il tamburino in testa, come un immenso e strano animale spinto in avanti da chissà quale cieca volontà. E' questo riflesso poi negli occhi stessi dei bambini che guardano. Poi inizia una descrizione quasi da cartone animato. L'essere mostruoso si scompone. Dal mucchio rosso-azzurro di uniformi a scatastate, di spalline gialle e di bottoni di metallo, emergono uomini che si gettano nell'acqua schiamazzando come borghesi. Basta con l'obbedienza passiva, basta con la rinuncia alla propria personalità. Ogni traccia di ostilità scompare, insieme con le mostrine e le uniformi. Ma lo scompiglio purtroppo dura poco. Un fischio richiama la dunata. E ben presto rivediamo i soldati, impeccabilmente in ordine, ben vestiti, allontanarsi in fila a passo di marcia sulla strada polverosa. Questo è uno dei piccoli episodi, però, che danno proprio il senso di questa vivacità anche del modo di scrivere dell'autore. Il ruscello è seguito così passo a passo lungo il suo cammino, dalla sorgente fino al mare. Prima diventa torrente, veloce e chiassoso come un giovane che entra nella vita, poi man mano si fa più lento e maturo, diventa fiume, attraversa la città e poi la pianura fino ad arrivare finalmente al mare. C'è anche un'attenzione particolare per quelli che sono gli aspetti ambientali, perché tra l'altro Reclus fu riconosciuto, direi quasi come un protoecologista, se vogliamo usare questa parola, e osserva l'inquinamento che deriva soprattutto dagli scarichi delle aree urbane che trasforma il gaio ruscello, come lui scrive, in un'immonda fogna. E lo scorrere del ciclo delle acque, che è l'immagine stessa di ogni vita, se vogliamo anticipa anche l'ideale anarchico del suo autore. Per Reclus l'anarchia era la più elevata espressione dell'ordine morale. E qui vediamo che in questo scorrere inarrestabile dell'umanità, finora divisa in correnti distinte, è che diventa un grande fiume, riunito da un ideale comune di giustizia e di libertà. E noi, tutti, riuniti in una sola corrente, scenderemo insieme verso il grande mare in cui tutte le vite vanno a perdersi e a rinnovarsi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!